Siamo in una fase nella quale abbiamo chiesto, ovviamente durante le consultazioni al Presidente incaricato, che per quanto ci riguarda la Lega chiederà che si possa lavorare in sicurezza. Questo è l'impegno che noi abbiamo chiesto, si deve lavorare in sicurezza, perché non è più possibile andare avanti in questa situazione, se no altrimenti tantissime categorie rischiano davvero di rimanere chiuse, di non avere più soldi per mantenere le proprie famiglie, quindi si deve andare in questa direzione e noi faremo tutto il possibile perché ciò possa avvenire. Questo è l'impegno che prendiamo, che ha preso Salvini più volte, capisco la rabbia, comprendiamo la vostra frustrazione, siamo sempre stati noi come Lega interpreti tante volte di questo disagio, ci siamo pattuti col governo che c'era prima che non ci ha ascoltato, a questo punto il fatto di essere partecipi di questo governo come abbiamo scelto, la nostra disponibilità è stata questa al Presidente incaricato Draghi, siamo convinti che si possa riprendere a lavorare in sicurezza e a dare un futuro a voi e a vostri figli. Grazie.